Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Nel corso di questo mercoledì 29 giugno avremo tempo prevalentemente stabile al centro e al sud grazie all'imvarenza dell'anticiclone subtropicale. Al nord transiterà una rapida perturbazione che porterà gli ultimi fenomeni sul Triveneto. Qui non escludiamo qualche intenso temporale tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige migliorerà gradualmente a cominciare dal nord-ovest. In Abruzzo giornata stabile e molto calda e affosa, massime comunque in lieve calo rispetto agli ultimi giorni, valori tra i 29 e i 30 gradi, però al tempo stesso avremo molta più umidità, specie alle basse quote lungo le coste che renderanno il caldo particolarmente affoso. Le minime oscilleranno tra i 19 gradi e i 23 gradi, venti prevalentemente deboli o assenti, mari calmi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.